Il corpo è ricoperto di parole che fanno un racconto. E c'è il disastro che lo seppellì sotto la ruggine dell'inverno e c'è l'aggressione che lo passò da parte a parte. C'è la schiena trafitta e il taglio nella gola. Ora sulle dita prova altre parole che insieme dicano la corda troncata, il saltello nell'aria e il silenzio di ogni risveglio come il coraggio della vita nuova. Un fine, una progressione di questa raccolta di poesie, di viaggio, che conduce dalla vita offesa ad una vita in qualche modo risanata. Questa finalità in realtà non ha una tensione progressiva, non è una linea retta. Si muove in maniera ondulatoria, sussultoria, con strappi, con rotture, con fratture, cercando di ritornare sempre al punto iniziale, cioè il corpo, il corpo che appunto è lo stesso ad ogni incipit diverso. E l'ultima sezione è appunto il corpo e il verso, il verso, certo la poesia, ma il verso è probabilmente anche una questione etimologica, come dire questo vertere, questo girare, questo ritornare. ecco, ti chiedo Biagio, perché questo ritornare al corpo, alla cosa corpo, se è una cosa, e in quale direzione poi hai teso il verso? Perché il verso? Prima di cominciare questa conversazione, tu mi dicevi, ma in fondo questo corpo occupa uno spazio che è il vuoto, il vuoto di dentro e il vuoto di fuori, cioè in una desertificazione radicale il corpo diventa di nuovo un punto di partenza. e questa è già la risposta, ecco sì, questo corpo però è un corpo percepiente, è una percezione che pensa, è un pensiero che percepisce, ed è l'inizio e la fine di ogni discorso, quindi è una garanzia di immanenza, ed è anche un progetto di immanenza, anche se è una contraddizione, perché un progetto implica già un trascendersi, ed è in fondo la contraddizione della vita che quando vuole aderire a se stessa in massimo grado è già un suo sporgersi rispetto a ciò che è. Ora il verso in questo senso è questo momento di trascendenza, dello sporgersi, perché è il momento in cui la magia, diciamo, della poesia, quella sintesi che il ritmo provoca tra suono e immagine, quella magia è fatta di questo tornare, di questo eterno tornare, di questa ripetizione, quasi come un mantra, che la vita fa attraverso il verso della sua affermazione profonda, dionisiaca, il suo sì. Diciamo allora che la direzione, il telos di questo versificare è la realizzazione dionisiaca dell'immanenza, nei limiti del possibile in una vita come la nostra, in una vita media di uomo occidentale, in una società postindustriale, perché di questo si tratta, non dimentico mai il contesto reale, non mi tendo e non mi perdo nei miti, ma questo non vuol dire che la qualità della vita, le qualità della vita, siano potenzialmente impossibili oppure diminuite dalle condizioni storiche in cui si vive, in ogni condizione storica si può realizzare al meglio il significato della propria vita. E il corpo per me è l'universo da cui parto e a cui arrivo, esattamente come fa il verso che va e che torno, come il respiro che va e che torna. Sì, dunque, parli di respiro, queste poesie sono effettivamente, come dire, una ripresa continua del respiro, un attacco continuo del respiro per raggiungere una dimensione di calma, per raggiungere quel se stesso che è appunto questa res cogitans, una res cogitans che respira, mi viene da dire. E rispetto a questo respiro, vedo che appunto quelle volte che affanna, quelle volte che in qualche modo si strozza in gola, è come se si acquisse la percezione dei sensi. Io ho individuato all'interno di questa poesia un sentimento dominante, questo sentimento lo chiamerei risentimento, risentimento però in una duplice accezione, cioè il risentimento come questa emozione di rabbia mista con un desiderio di rivalsa, quella cosa che possiamo chiamare anche rancore, o peggio ancora, quando non è più relata ad altro e quindi ricadendo in se stessa diventa rimorso. E poi dall'altra parte invece questo risentimento è come un sentire di nuovo, un risentire il corpo, un risentire la percezione del mondo. Mi sembra che purtroppo bisogna dare ancora una volta ragione ad Heidegger quando sostiene che il senso di una cosa ci proviene dalla sua rottura. È così, abbiamo ancora bisogno del negativo per raggiungere il senso e la percezione delle cose in maniera più acuta, più acuita? Sicuramente la rottura di una routine, di un'abitudine, di una scontatezza dell'esserci spinge a cambiare molto e ad avvertire molto ciò che c'è nell'immediatezza, nel circostante. Si diventa non più miopi, ma diciamo che non è la condizione necessaria questa per che ciò accada, perché ci si augura che un'aderenza alla vita sensibile e soprattutto una profonda consapevolezza del circostante, dell'immediato, dell'immediatezza è sempre augurabile. Diciamo che le qualità hanno un prologo che è l'intuizione del propizio che è stata come una palestra di questo tipo di percezione. Quindi direi che indipendentemente dalla rottura di una routine il movimento della costruzione di questi testi si è avviato in maniera indipendente, perché la ricerca che presuppone questo libro era una ricerca proprio di adesione massima e di consapevolezza massima al qui e all'ora, attraverso degli stati meditativi centrati tutti sulla concentrazione, per cui la concentrazione ha favorito un modo di percepire e un modo di appercepire, di essere consapevoli della percezione che poi è diventato un modello da estendere in fondo a tutte le esperienze. Ogni esperienza è un'esperienza in se stessa meditativa, dipende da come la si compie e quindi anche l'azione più quotidiana, come il lavarsi per esempio la mattina, oppure l'uscire per strada e notare la luce come batte sulle superfici, oppure il concetto più astratto, tutto può diventare oggetto di consapevolezza intensa, di intensificazione della consapevolezza dove la sensibilità, il sentire e il pensare si scambiano le parti accomunate da un'unica intensità di fuoco di concentrazione di fuoco, nel senso ottico della parola ma anche nel senso della temperatura che può raggiungere la vita della coscienza quando si addensa, si condensa e si concentra sul suo oggetto. In questo senso non è importante che il martello di Heidegger come dicevi prima si rompa perché si capisca qual era il suo senso, la cosa importante è avvertire sempre nelle mani cosa si stringe e magari a partire dal pugno chiuso, cioè dalla mano che stringe il nulla. Quando ci si accorge di avere una mano, indipendentemente da ciò che si stringe, lì si comincia secondo me a imparare la grammatica di questo tipo di percezione pensante.